Minacce di morte ad un consigliere comunale di Nocera Inferiore. L'episodio di cronaca si sarebbe verificato qualche giorno fa quando l'esponente politico nocerino sarebbe stato avvicinato da un uomo di Castellammare di Stabia, ex marito della sua compagna, che trovato nel cortile dell'abitazione della donna avrebbe iniziato ad inveire contro di lui, imputandogli di essere la causa della separazione dalla moglie e del rapporto problematico che di conseguenza aveva con i figli. Impaurito e preoccupato della piega che i toni della vicenda stavano prendendo, il consigliere comunale avrebbe allertato il locale commissariato di polizia. Sul posto sarebbe prontamente giunta una volante, ma l'uomo in preda alla rabbia e a un istinto violento avrebbe iniziato a danneggiare l'auto del politico nocerino, provocando striature ed ammaccature su entrambe le portiere e pronunciando frasi intimidatorie del tipo «Ti taglio la testa, ti faccio a pezzettini». Tutto sarebbe avvenuto alla presenza dei figli che, impauriti, si trovavano nella sua auto e che lui avrebbe dovuto accompagnare invece a scuola. Nonostante la presenza dei poliziotti, l'uomo con precedenti penali per reati specifici, quali maltrattamenti in famiglia, verso minori, minacce, atti persecutori nei confronti del coniuge, nonché violazione degli obblighi di assistenza familiare a seguito della separazione, avrebbe continuato a minacciare l'attuale compagno della ex moglie. Gli agenti del commissariato di polizia nocerino avrebbero pertanto provveduto a denunciare il pregiudicato stabbiese, attivando l'aggravante da codice rosso. Solo così la situazione sarebbe tornata alla calma e i bambini sarebbero stati riconsegnati alla madre. Una brutta vicenda che vede ancora una volta toccate le donne e i loro bambini. Scene di violenza assistita che rappresentano sempre più, purtroppo, una drammatica routine contro i soggetti più deboli, donne e bambini. Si attenderebbe l'esito della decisione del magistrato di turno, l'esito dei relativi approfondimenti degli inquirenti, per capire se nell'immediato verranno adottate misure specifiche nei confronti dell'aggressore. Grazie.